Allora ragazzi, la sentenza ha detto che Acerbi per mancanza di prove non può essere squalificato ed è giusto così, è giusto così, fino a qualche giorno fa io pensavo fosse successo veramente tutto ciò pensavo che ormai fosse imminente la squalifica di Acerbi e quindi avevo fatto un video dove avevo anche criticato Acerbi però ragazzi è giusto così, mancano le prove, mancano le prove, non si sa se è veramente successo perché col nervosismo in campo Juan Jesus può anche aver detto una stronzata, può aver tranquillamente detto una stronzata eh raga, può essere tranquillamente anche così ed è giusto così, è giusto così, adesso i tifosi delle altre squadre devono mettere in mezzo l'Inter, devono rompere i coglioni, fanno video su video ragazzi, ragazzi, se fosse successo un giocatore della vostra squadra sareste stati zitti e sareste stati contenti e avreste detto giusto così succede a noi, rompete il cazzo vi manca la coerenza, dovete smetterla, siete incoerenti siete incoerenti siete incoerenti, ci date dei simulatori a noi e voi avete in squadra Teo Hernandez gli altri Ciano Vlaovic quando simulano loro tutti zitti, quando simula barella, è casino siete incoerenti in tutto, in tutto è giusto così ragazzi, adesso faccio un esempio più grande se uno commette più omicidi se uno commette più omicidi chi indaga sugli omicidi dovrà avere una cazzo di prova prima di condannare una persona all'ergastolo? o lo mette dentro così perché bua la faccia un po' è sempre serio e allora può essere lui? cioè, si manda all'ergastolo una persona così? perché, non so, di faccia mi sa di un omicida? no, deve avere delle prove deve avere delle prove funziona così, eh? è inutile che mi state a dire una roba all'italiana non è un cazzo una roba all'italiana non cazzo vuol dire roba all'italiana se uno non ha le prove, che cazzo deve fare? se voi siete tutti fenomeni, sapete già tutto prima è a posto, a posto a posto, ma non funziona così non funziona così e mi piacerebbe che succedesse quasi quasi a voi una roba del genere che vi incolpano di una cosa e magari non siete stati a farla ma vi incolpano voi perché, boh avete di faccia set antipatici vabbè io comunque ragazzi chiudo il video e ciao a tutti